Qual è la pianta perenne più venduta da Sassigarne? La campanula. Campanula muralis o prosteggiarchiana. Questa campanula qua è una campanula perenne. La perenne più rifiorente di tutte. Infatti la vedremo anche comparire nelle uole oppure che scendono giù dai muretti, infatti è ricadente. Perenne che tende a rifiorire tutta la primavera inoltrata anche per buona parte dell'inizio dell'estate. Invece quando inizia a far caldo seriamente tende a fiorire molto meno, avrà qualche fiorellino sporadico e poi invece specialmente se andiamo a potarla, a ritagliarla, eccetera, avremo un'altra bella fioritura abbondante verso fine estate, inizio autunno, settembre, ottobre farà un'ultima fioritura. Invece in inverno sparisce completamente. Rivegeta poi verso marzo-aprile quando la temperatura supera i 10 gradi. Allora dove andiamo a collocare la campanula? Allora si adatta benissimo sia al pieno sole che in mezz'ombra. Ovviamente se mettiamo più al sole fiorirà molto di più. Mezz'ombra farà meno fiori. Per quanto riguarda invece le sue necessità idriche, è una pianta che si adatta benissimo in un terreno povero ed asciutto. Se la coltiviamo in vaso ovviamente andrà bagnata di più, cioè terra asciutta. Mentre se andiamo a piantarla in un terreno, dopo qualche anno potremo quasi dimenticarcela perché è una pianta che a salvo siccità straordinarie è resistentissima alla siccità. Venga, venga. No, ma andate qui qua. Ok. Allora, che terriccio usiamo per la campanula? Allora vi consiglio un terriccio anche universale e va benissimo. L'ideale è che sia ben drenata. Quindi magari se la piantiamo in vaso utilizzeremo l'argilla espansa sul fondo e poi sopra utilizzeremo il terriccio universale e va benissimo. Possiamo anche piantarla direttamente nel terreno e nei wall, è una perenne. Cercheremo specialmente nelle zone dove c'è ristagno idrico di mettere sul fondo o dell'argilla o qualche inerte che aiuti a drenar via. Per quanto riguarda invece la concimazione, se vogliamo una fioritura abbondante, vi consiglio minimo una concimazione per piante fiorite una volta ogni due settimane da marzo, cioè il periodo di fioritura, fino a settembre-ottobre. Perché dobbiamo scegliere una campanula? Allora la campanula è tra tutte le perenni la più rifiorenta e si adatta in tutte le zone, sia di montagna che zone costiere. È molto facile da coltivare, si autopropaga, quindi si allargerà molto, avremo dei magnifici tappeti fioriti da marzo fino all'estate inoltre. Vi segnalo che la campanula sarà in offerta questa settimana, una pianta così a 2,90€, sia al Garden SassiGarden che sul nostro sito sassigarden.com.